Siamo lavorati a quanto riguarda il paolo e il paolo, sull'arri a me, aia di appena tanto, aia di appena santo. Dopo, a tupenni, uambicenni, aia di avari orata, kisi i republica miti rumu, kama om aura ee dati muavi, Maana, ukisadiki akuwa Yesu wa popcorn e kabilo wadekuka, ikakua saloha, uambicenni. Mungu atawaomua vatila leahini. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.